Infine, brevemente, prima di parlare di politica internazionale, ringraziare per un passaggio quello su Amatrice. Amatrice è un piccolo paese del centro Italia piegato da un terremoto drammatico come i paesi vicini, Arquata, Cumoli, ma è anche il paese dove è nata la pasta all'amatriciana, che è uno dei prodotti tipici italiani. E allora quella piccola comunità di Amatrice, che ha avuto tanti morti, che ha avuto decine di morti, non si è piegata. Caro Presidente, quando verrai a visitare l'Italia nei prossimi mesi, io credo che ti faremo assaggiare, grazie ai cuochi di Amatrice, una delle più buone paste che tu abbia mai assaggiato, e in particolar modo la pasta all'amatriciana, credo che sia un modo anche per dire a quella comunità piegata dal terremoto che il cibo può essere elemento di identità e di futuro.